Si guarda la riapertura con la speranza che la campagna vaccinale possa accelerare il ritorno alla normalità. Questo è lo stato d'animo degli imprenditori della zona Porto, provati dalla restrizione anti-Covid di questi mesi. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto i titolari delle attività ristorative per raccogliere le opinioni e le proposte in vista della stagione estiva. Come si riparte dopo questo periodo così difficile? Si parla in queste settimane di riapertura e lo stesso De Luca aveva parlato delle vaccinazioni, di dare priorità alle classi economiche piuttosto che alle classi di età. È d'accordo con quello che dice il governatore? Sì, sono d'accordo sinceramente perché potrebbe essere per noi importante anche questa cosa qua, però come tutte le cose tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il problema è che comunque ci vorrà ancora molto tempo secondo le stime che ci stanno. I vaccini sono molto a rilento, attualmente stanno ancora vaccinando i settantenni, quindi finché daranno la libertà a noi attività passeranno secondo me ancora molti mesi. È necessario creare comunque qualcosa che ci possa aiutare anche in questa veste qua. Noi potremmo in tutto sommato poter recepire e far rispettare i protocolli, ma invece per strato tu vedi l'impossibile, allora il senso di ingiustizia sale di più e quindi percepisci tutto come una cosa ingiusta, sapendo che poi magari hai carico addosso alle famiglie, ai dipendenti. Oltre che la rabbia si sente in qualche modo anche abbandonato dallo Stato e dalle istituzioni? Il problema è che si affronta tutto come se fosse una crisi solo economica, cioè sanitaria, ma in realtà queste sono sfide nuove e alle quali bisogna rispondere con delle cose nuove, magari con creatività, con coraggio. In realtà qua si chiede solo grandissimi sacrifici agli imprenditori che tutto sommato non hanno neanche riconosciuto il diritto a poter lavorare. Cosa si aspetta dai prossimi mesi? Non si vedono spiraglie perché non c'è certezza, noi non possiamo programmare nulla. Si sta dicendo delle isole covid free, ma rischieremo di essere trattati come cittadini di serie B in questo caso, perché non ci sono località di serie A da considerare covid free. Qua ci sono tutte le attività, tutto il tessuto economico da riprendere. Le persone hanno paura, hanno paura di uscire a prendersi un caffè, come è giusto che sia così, però attendiamo i vaccini, attendiamo questo. Si deve andare avanti un po' con i vaccini, perché siamo proprio quasi fermi, è lento, è più lento e più noi siamo sempre così. Le restrizioni sono troppo stupide per me, perché non è possibile che il coronavirus sia in un bar o in un ristorante, mentre per la strada poi la gente può stare, poi penso che la gente è anche stanca. I bar devono lavorare, perché comunque cassa integrazioni che non arrivano. Nessuno se ne frega di niente, pescatori che non possono uscire a lavorare, perché se no beccano le multe in mezzo al mare, la finanza dappertutto, quindi siamo un pochino tutti messi male, perché se non lavorano loro, non lavoriamo noi, se i soldi non girano, nessuno lavora. Quali sono le sue proposte o se vuole lanciare un appello alle istituzioni? Proposte, le proposte bene o male le dovrebbero fare loro al governo, chi guadagna e sta lì apposta a fare il proprio lavoro. Si devono muovere con i vaccini, devono fare altre cose per dare un pochino di sicurezza alla gente, non chiudere i bar e i ristoranti, perché è inutile. Cosa si aspetta dai prossimi mesi? È fiduciosa? Sì, abbastanza fiduciosa, non bisogna mollare mai, specialmente, ripeto, per noi che abbiamo queste attività, che siamo qui da anni e anni, ci aspettiamo in una grande ripresa per tutti. Sono stati mesi difficili e dalle nostre istituzioni, soprattutto l'attività comunale torrese, è stata quasi assolutamente assente. Noi abbiamo cercato di affrontare questi periodi reinventandoci. Spero che ci facciano riaprire al pubblico, perché altrimenti è una scommessa rimanere aperti. Ormai sono più di 13 mesi che abbiamo avuto aperture alternate, ma non ci danno la possibilità di mantenere così a lungo delle strutture chiuse. Quali sono le iniziative a questo punto per agevolare la ripartenza? Allora, innanzitutto come associazione ASCOM, insieme all'associazione Sviluppo Aeroporto, abbiamo fatto una richiesta ufficiale all'ASL per aprire un hub dedicato alle vaccinazioni del personale delle attività produttive. Sostanzialmente sono ottimista e spero, e anche nella collaborazione, ripeto, dell'amministrazione locale, affinché faccia iniziative di tipo culturale, musicale e quant'altro, per attirare l'attenzione dei ospiti turisti, che possono essere turisti di prossimità, ma anche turisti stranieri.